Ci sono diversi provvedimenti importanti per il sisma 2009 nella prima legge di bilancio in via di approvazione del governo Meloni ad illustrarli il sindaco Pierluigi Biondi, il presidente Marsilio, parlamentari di maggioranza ed esponenti di governo. C'è attenzione per l'Aquila e l'Abruzzo e questa è la prima prova utile, ha detto Biondi. La legge è in bozza ma le proposte dell'Aquila e Clatere sono state recepite. Per il comune dell'Aquila e Clatere dal 2023 il contributo per le minori entrate e maggiori spese è raddoppiato ma non è l'unico provvedimento. C'è il raddoppio del contributo straordinario per le minori entrate e le maggiori spese per il comune dell'Aquila, 20 milioni di euro nel 2023, poi si scende a 18 nel 2024, 15 nel 2025 e anche questa è una novità assoluta. Finalmente abbiamo ottenuto che gli stanziamenti fossero triennali così come i bilanci di previsione. Abbiamo la deroga per il personale sempre per un triennio, la prosecuzione delle attività degli uffici speciali dell'Aquila e del Clatere. Naturalmente queste misure riguardano anche il Clatere. È un lavoro che abbiamo fatto insieme, insieme alla nostra rappresentanza parlamentare, con competenza, con capacità relazionali e soprattutto con la credibilità che l'amministrazione dell'Aquila ha saputo mettere in campo da qualche anno ad oggi. Il presidente Marsilio ha parlato di impegni onorati. La candidatura della Meloni è stata un'occasione d'oro per rappresentare la terra d'Abruzzo che torna al centro delle politiche nazionali. In passato per Marsilio, la città dell'Aquila si è vista umiliata, costretta a strillare per ottenere quanto dovuto. Soddisfatti anche i parlamentari, c'era pure il sottosegretario d'Eramo per questo lavoro che è stato definito di squadra. Anche Massimiliano Giorgi, vicecoordinatore dei sindaci del Clatere e sindaco di Montereale, ha espresso soddisfazione a nome di 56 comuni del Clatere perché le richieste sono state accettate e questo permetterà di programmare meglio tutto il lavoro.